Musica Lunedì 7 settembre, San Guido, è il 250esimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 115 al termine. Il sole sorge alle 6 e 40, tramonta alle 19 e 41. La luna si leva alle 1 e 10 minuti, cala alle 16 e 10. Nicholas Jenson, famoso tipografo e libraio, detta le sue ultime volontà poco dopo lo coglierà la morte. Secondo dei tipografi giunti a Venezia nel 400, vi aprì un'officina in società con Giovanni da Colonia. Fu il primo a usare il formato dei libri in sedicesimi ed è stato il creatore dei celebri caratteri romani con i quali pubblicò le opere più belle del primo secolo dell'arte della stamba. Le previsioni per domani. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, precipitazioni assenti, ottima visibilità in quota massime, in leggero aumento specie in quota, minime in ulteriore diminuzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.